Grazie a tutti. Caglia non è più l'allenatore della palacanestro Brescia, l'annuncio a poche ore dall'Adio di Santoro. E affiancarti nei tuoi sogni e nelle scelte di vita. Ti aspettiamo in BCC Agro Bresciano. Ci riconosceremo al volo. La donna di 63 anni scomparsa domenica dalla sua abitazione di Muscoline. Muscoline purtroppo è arrivato il tragico epilogo. A riportarlo è anche il sito ufficiale dell'Agenzia regionale dell'emergenza urgenza. Ovvero è stato ritrovato il corpo senza vita di Claudia Goffi. Sabato e domenica si era attivata la macchina delle ricerche con decine di uomini e volontari anche della protezione civile e vigili del fuoco impegnati sul campo fra il comune di residenza Muscoline della Donna e la località di Moniga del Bosco dove si ipotizzava potesse essersi recata per fare una passeggiata. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto attorno alle 17 di questo pomeriggio in località Canova, sempre a Muscoline. Speterà ora le autorità e al medico legale intervenuto sul posto cercare di ricostruire quali possano essere le cause di quanto accaduto. Quindi questa è una notizia dell'ultima ora arrivata in redazione davvero pochi minuti prima dell'inizio del telegiornale. Sicuramente potremo avere maggiori informazioni a riguardo nelle prossime edizioni ovviamente sul nostro sito internet anche nelle prossime ore in attesa che arrivino delucidazioni anche dal personale impegnato nelle ricerche proprio sul luogo a Muscoline. Ora riprendiamo, proseguiamo con il giornale parlando di Covid perché questa è stata la giornata del primo question time del premier Mario Draghi alla Camera. Sono stati davvero tanti i temi toccati dal primo ministro Draghi abbiamo deciso di estrapolare due passaggi abbastanza significativi. Il primo riguarda il turismo, turismo di cui Draghi aveva già parlato nei giorni scorsi e su cui appunto parlato di questa accelerata verso una riapertura del turismo tanto interno quanto estero. Il nostro obiettivo è riaprire al più presto l'Italia al turismo nostro e quello straniero. Sono d'accordo che il turismo sia un settore di enorme importanza per il nostro Paese. La pandemia ha avuto sugli operatori effetti economici ingenti e siamo all'opera per permetter loro di ripartire quanto prima e con la massima sicurezza. In questo senso la prima iniziativa a sostegno del turismo è lo sforzo che il Governo nella figura del Commissario straordinario sta compiendo per procedere rapidamente al completamento della campagna vaccinale. Secondo il calendario del Commissario, tra fine giugno e inizio luglio avremo vaccinato almeno con una dose le persone fragili e quelle maggiori di 60 anni che rappresentano quelle più a rischio. La vaccinazione sta già portando a un calo dei contagi tra più anziani, una riduzione della pressione sulle strutture ospedaliere. Questi miglioramenti consentiranno una graduale e progressiva riapertura del Paese. Per quanto riguarda i flussi turistici, prevediamo di ampliare la sperimentazione dei voli Covid-tested, che includa più linee, più rotti, più aeroporti. E poi c'è in corso una revisione delle misure esistenti per i Paesi Schengen per permettere accessi a fronte della presentazione di un tampone negativo e senza quarantena. Per quanto riguarda i Paesi del G7, specialmente negli USA, gli Stati Uniti, Canada e Giappone, saranno favoriti gli ingressi senza quarantena in caso di certificazione vaccinale. Il Covid ha fatto crollare di 27 miliardi la spesa dei turisti stranieri in Italia nel 2020. Con il lockdown e le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria, il fatturato del settore ha subito una contrazione superiore al 60%, dai 44 miliardi del 2019 ai 17 dello scorso anno. È quanto emerge dai dati del centro studi di un'impresa. Il periodo peggiore è stato il secondo trimestre. Il fatturato perso nei mesi di aprile, maggio e giugno complessivamente è stato pari a 10,1 miliardi, con un calo dell'84,7%. Nel terzo trimestre si sono registrate perdite di 7,7 miliardi, mentre fra ottobre e dicembre il calo si è attestato a 6,6 miliardi. Un'altra delle tematiche toccate dal Premier Draghi alla Camera durante il Question Time è stata quella del settore dei matrimoni e comunque più in generale quello degli eventi. In questo caso il Premier ha detto di andare con gradualità, con dei passi, brevi passi per evitare, per scongiurare che magari un evento bello come può essere un matrimonio si trasformi poi in un cluster. La questione del settore delle cerimonie sarà l'attenzione della prossima cabina di regia, Palazzo Chigi, che si terrà a lunedì 17 maggio. Quella sarà l'occasione per dare maggiori certezze a tutto il comparto che ha subito danni economici significativi. Dobbiamo però essere attenti a bilanciare le ragioni dell'economia con quelle della salute. I matrimoni sono un'occasione di socialità che può favorire la diffusione del contagio. Come in altri casi, il Governo intende adottare un approccio graduale e allentare le restrizioni a seconda dell'andamento epidemiologico e della campagna vaccinale. Il Governo resta comunque vicino agli operatori del settore. Nell'ultimo decreto sostegni presentato alle Camere, abbiamo stanziato 200 milioni per l'anno in corso anche a favore di imprese operanti nel settore dei matrimoni. Ulteriori misure di indennizzo sono previste nel nuovo decreto sostegni la settimana prossima. Permettetevi poi di rivolgere un pensiero alle tante coppie che stanno programmando i loro matrimoni. Capisco la loro preoccupazione. Il festeggiamento di una circostanza così importante è un desiderio che abbiamo avuto tutti. È fondamentale però avere ancora un po' di pazienza, per evitare che quella che deve essere un'occasione di gioia e spensieratezza si trasformi in un potenziale rischio per i partecipanti. E fra l'altro come avete sentito anche questa domanda in merito ai matrimoni è stato anche pretesto per annunciare che la cabina di regia si svolgerà il prossimo lunedì e questo potrebbe voler dire anche uno slittamento della decisione sul coprifuoco. Novità come sempre nelle prossime ore. Ora vediamo invece al capitolo dati. Lo facciamo come sempre andando sul nostro sito www.lightbrescia.tv per dare uno sguardo al bollettino pubblicato poco fa da Regione Lombardia. Come possiamo vedere la prima bella notizia che vediamo già dal titolo è che il tasso di positività rimane fermo, rimane praticamente stabile come quello che era ieri, 2,3% e quindi rimane anche basso nonostante i tamponi siano aumentati. Come possiamo osservare nell'infografica sono stati 50.658 quelli processati nell'ultima giornata 1.198 i nuovi positivi emersi il tasso di positività che quindi rimane davvero molto basso 2,3%. Brescia fa segnare 136 nuovi contagi è il terzo dato a livello regionale dietro a Varese 163, Milano 362 le altre province lombarde non superano i 100 nuovi contagi ci va molto vicino, dobbiamo dirlo Monza con un più 96. Per quanto riguarda i decessi torniamo a vedere un lieve aumento in realtà rispetto al trend degli ultimi giorni sono 36 le segnalazioni dei decessi attribuibili al Covid nell'ultima giornata numero che comunque rimane abbastanza stabile nel corso delle giornate con qualche piccola curva per quanto riguarda invece i ricoveri vediamo un meno 6 nelle terapie intensive un meno 115 invece per quanto riguarda i ricoveri convenzionali nei reparti Covid non di rianimazione cerchiamo ora come spesso facciamo di ricondurre questo dato anche una dimensione più locale a quella della SST spedali civili di Brescia dove arriva anche una buona notizia che non riguarda i ricoveri bensì il pronto soccorso dove gli accessi ieri sono stati 4 l'altro ieri pure quindi accessi Covid che si stanno praticamente azzerando ieri i ricoveri Covid al civile erano rimasti stabili rispetto a 24 ore prima il bollettino di oggi invece ci riferisce di una nuova flessione che riguarda anche le terapie intensive e non può che essere una buona notizia il comunicato della direzione della SST spedali civili di ieri comunicava che nei reparti Covid erano ricoverate 126 persone di cui 19 in terapia intensiva oggi questo numero scende e arriva a quota 117 che significa o meno 9 sul totale dei posti letto scendono di due unità invece i pazienti ricoverati nelle terapie intensive che passano quindi a 17 invariata la situazione in pronto soccorso con accessi Covid praticamente azzerati o quasi nell'ultima giornata gli accessi per sintomi legati al coronavirus sono stati 4 a fronte di 157 pazienti con altre patologie ora la cronaca con due arresti per spaccio di cocaina in Val Camonica due a distanza di poche ore a distanza molto ravvicinata anche di spazio solo poche ore fa una vasta operazione antidroga della polizia di stato aveva sgominato una banda dedita allo spaccio di cocaina con centro nevralgico un bar di travagliato le divise raccontando nel dettaglio quanto avvenuto hanno anche spiegato di come la cocaina sia ormai la droga più diffuso sul territorio bresciano praticamente in quei momenti la conferma arrivava da due distinte operazioni portate a termine questa volta dai carabinieri in Val Camonica due arresti per spaccio della medesima sostanza nel primo caso i militari di Artogne hanno controllato un veicolo che si trovava nei pressi del centro congressi il guidatore un cittadino tunisino residente con il fratello a Pian Camuno è subito parso agitato e quindi i carabinieri hanno deciso di procedere con una perquisizione per vederci più chiaro il bilancio finale conta circa 1000 euro in contanti nelle tasche e 150 grammi di cocaina sotto il sedile per un valore di mercato che si aggira attorno ai 12-13 mila euro sono in corso le indagini per capire se l'uomo fosse andato a Darfo per comprare la droga o per spacciarla poco distante dal primo intervento i militari della stazione di Darfo Boario Terme hanno controllato un gruppetto di giovani che si trovavano all'interno di un parco alla vista della pattuglia uno di loro un giovane cittadino colombiano di 23 anni con un gesto maldestro ha provato a nascondere qualcosa nella tasca dei pantaloni il gesto non è passato inosservato i carabinieri hanno sequestrato in tutto otto dosi di polvere bianca per entrambi i soggetti sono scattate le manette in flagranza di reato per spaccio e detenzione misura convalidata dal giudice dopo Arimarten quest'oggi è stato presentato il piano di allacciamento alla rete di A2A del terreriscaldamento anche per quanto riguarda l'Alfa Chai quindi a partire dalla prossima stagione termica anche Alfa Chai immetterà il suo calore che prima veniva disperso in questa rete fornendo così quindi calore per le abitazioni di 3000 famiglie bresciane un altro step importantissimo del nostro piano industriale che prevede sulla parte del teleriscaldamento dove A2A è leader in Italia di arrivare entro il 2030 ad avere il 73% di acqua calda riscaldata con calore recuperato da processi industriali o da rinnovabili non a caso il teleriscaldamento è stato inserito proprio nella parte di economia circolare del nostro piano e Alfa Chai dopo Rimartene e prima del cammino del nostro termovalorizzatore che sarà il prossimo step contribuirà per 3000 famiglie di Brescia della zona di San Polo che verranno scaldate con il calore della produzione industriale credo che si commenti da solo con un abbattimento di CO2 pari a tutto la CO2 che serviva per scaldare queste 3000 famiglie la necessità di trovare un equilibrio tra tutto il sistema non è stato facile anche perché le soluzioni erano molteplici quello che abbiamo trovato e l'obiettivo che abbiamo avuto sempre dall'inizio era quello di massimizzare il recupero termico e non di fare una piccola iniezione iniziale e basta il potenziale è altissimo abbiamo detto che 10.000 persone verranno riscaldate con questa prima fase immediatamente raddoppiamo e quindi 20.000 e ci sono ulteriori spazi di crescita e quindi tutta la sperimentazione come ci ha dato fiducia su queste soluzioni è il segno vero che questa è una città che con le buone prassi può migliorare la sua condizione ambientale ridurre le emissioni polveri sottili il CO2 gli ossidi di azoto questo lo fa sia tramite a due direttamente gli investimenti con la decarbonizzazione e l'abbattimento delle emissioni del teleriscaldamento del termovalorizzatore sia attraverso la emissione di calore delle grandi acciaierie dentro il teleriscaldamento sono delle buone prassi di cui dovremmo essere molto orgogliosi che vanno nella direzione da tutti auspicata una città sempre più sostenibile ambientalmente e sempre più carica di esempi positivi questo è un messaggio anche di fiducia sul futuro se si fanno gli investimenti giusti se si trovano le alleanze giuste se si ha i giusti stimoli si possono fare dei grandi passi avanti la regione ci ha messo l'impegno nell'individuare il migliore progetto e i fondi per realizzarlo su 5,8 milioni 2,8 milioni di euro fondi europei e diretti della regione che sono stati convogliati su un progetto estremamente innovativo oltre che sicuramente utile ai cittadini utile alle aziende che va nel senso dell'economia circolare della super circolarità del risparmio energetico ma guardate la ricerca e l'innovazione che sta dietro a questo progetto è notevole perché potrà essere anche replicato ed è una base di studi fondamentali la forza della ricerca è quello che è un investimento oggi serve per il benessere presente e futuro come avete sentito nei nostri titoli da quest'oggi la vittoria alata lo sappiamo uno dei simboli più importanti di Brescia sarà una guida speciale all'interno del lab vaccinale della fiera di Brescia ebbene speriamo di aver causato anche un minimo di curiosità in voi cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta di che progetto si tratta insieme a Francesca Bazzoli che è la presidente della fondazione Brescia Musei potrebbe essere un accostamento un po' originale in realtà si inserisce perfettamente a nostro avviso in quella che è la nuova missione dei musei come scolpita dalla convenzione di Faro non stare dentro nei propri luoghi a costudire tesori ma cercare di portare questi tesori straordinari nella vita della città quale migliore occasione di questo allestimento di una fiera dove passeranno centinaia di migliaia di persone per mostrare quello che è il più grande tesoro della nostra città la Vittoria Alata simbolico anche in questo momento in vista di questo ritorno e di una ripartenza perché la Vittoria Alata ci è stata restituita nuova vita e ci accompagnerà nello sviluppo futuro della città quindi un'occasione straordinaria per mettere insieme il tesoro della città culturale in un accompagnamento che accompagnerà appunto lungo tutto il percorso della vaccinazione con una progressiva scoperta il soggetto che verrà a fare la vaccinazione è evidente è un duplice accompagnamento una scoperta della Vittoria Alata e la Vittoria Alata che prende per mano il vaccinando e lo conduce fuori da questo percorso credo che sia davvero un'attuazione bellissima di questa idea nuova del museo che sta dentro la città e accompagna e cura con la cultura le persone che vivono nei luoghi della città Ora una breve pausa ma restate con noi perché questa sera c'è una pagina sportiva davvero ricca come avete sentito dai titoli c'è uno scossone societario sulla panchina della Germani ma c'è anche il fronte del live e ovviamente il Brescia Calcio con l'avvicinamento dei playoff a fra poco Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e-live play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify Apple Podcast Spreaker e Google Podcast Care amiche da oggi si può stirare al massimo e senza pieghe finalmente è possibile Termostir creata per realizzare il vostro sogno a casa o in stireria la vostra garanzia Una buona sera anche agli amici sportivi di e-live come abbiamo annunciato sicuramente la notizia del giorno dal punto di vista sportivo è il fatto che Maurizio Buscaglia non sia più l'allenatore della pallacanestro Brescia l'annuncio ufficiale l'ha proprio dato il club con le dichiarazioni fra gli altri anche di Mauro Ferrari di Graziella Bragaglio Maurizio Buscaglia non è più l'allenatore della pallacanestro Brescia a dare l'annuncio ufficiale è stata proprio la società a poche ore dall'ultima partita di campionato e dall'addio di Sandro Santoro a nome di tutto il consiglio di amministrazione ha dichiarato Mauro Ferrari proprietario di pallacanestro Brescia desidero ringraziare Maurizio Buscaglia per il suo contributo nel raggiungere l'obiettivo della salvezza conquistata con una giornata d'anticipo rispetto alla fine della regular season L'ormai ex tecnico bianco-azzurro era approdato sulla panchina bresciano allo scorso primo dicembre a stagione iniziata aveva rilevato il posto di Vincenzo Esposito dopo un avvio negativo di campionato e un percorso deludente in Euro Cup terminato con appena due vittorie in dieci gare disputate ringrazio Maurizio Buscaglia per la sua grande professionalità mostrata quotidianamente all'interno di un percorso terminato con il raggiungimento dell'importante traguardo della permanenza in Serie A il pensiero di Graziella Bargaglio attraverso il suo lavoro Maurizio ha ripagato la fiducia che la società gli ha riposto nel momento in cui lo ha chiamato alla guida della squadra nell'ambito di una delle stagioni più anomale e complesse di tutto il basket italiano sono lieta che Palacanestro Brescia abbia potuto contare sulla qualità del suo lavoro e desidero augurargli il meglio per il proseguo della sua carriera e come vi avevo annunciato c'è anche il fronte del live quindi vi aggiorno su qualche risultato fresco o comunque ancora in divenire vi parlo prima di AN Brescia che come vi avevamo detto nei telegiornali di quest'oggi scendeva in vasca contro Palermo per la prima gara dei playoff Scudetto e l'AN è riuscita a vincere 12 a 7 il primo appuntamento importante insomma di questa fase finale della stagione ora già la testa è a gara 2 mentre sta giocando proprio in questo momento l'Atlantide Palavoro Brescia la sua gara 1 delle finali playoff in questo caso promozione l'Atlantide che attualmente è in vantaggio per 2 7 a 0 per quanto riguarda il terzo set però per il momento stanno avendo ragione i avversari di Taranto per 19 a 12 quindi un fronte del live sicuramente da tenere monitorato anche per questa partita storica dei Tucani dell'Atlantide Palavoro Brescia chiudiamo invece come è annunciato con il Brescia Calcio perché è già la vigilia della sfida di playoff promozione per quanto riguarda i ragazzi di Cloteta allora sentiamo le sue dichiarazioni prima di questa partita da dentro o fuori la nostra mentalità è quella di competere ogni partita e di cercare la vittoria dovremo essere intelligenti nella lettura delle partite spesso ci siamo riusciti sappiamo che se arriveremo al novantesimo alla pari avremo altri 30 minuti per vincere siamo consapevoli delle difficoltà però le partite vanno giocate così l'allenatore del Brescia Calcio Pep Cloteta ha presentato la partita da dentro o fuori che le rondinelle affronteranno giovedì alle 18 contro Cittadella primo turno dei playoff promozione guadagnati lunedì contro il Monza dalla prima partita in cui sono arrivato siamo sempre stati focalizzati nel presente prosegue Cloteta sarà una gara difficile e sappiamo che al nostro rivale saranno utili due risultati e che hanno l'esperienza nei playoff durante il campionato non abbiamo mai vinto contro il Cittadella ci hanno sempre creato delle difficoltà ma noi lotteremo per la vittoria ricordo quando abbiamo ottenuto la salvezza qualche commento di qualcuno che pensava andassimo in vacanza in anticipo ha concluso il tecnico togliendosi qualche sassorino dalla scarpa non è stato così tutto il contrario abbiamo ambizione energia e voglia di vincere le partite abbiamo tanta energia dentro perché lottiamo da tempo contro ogni pronostico e abbiamo voglia di migliorarci e superarci sempre più ovviamente domani alle 17.30 torna anche diretta stadio per seguire questa fondamentale partita che speriamo non sia l'ultima dei playoff del Rondinelle io mi fermo qui invece con il telegiornale anche perché è davvero tardi prima di salutarvi vi porto rapidamente sul nostro sito internet livebrescia.tv solo per ricordarvi che qui trovate tutte le notizie e tutti i nostri canali per raggiungervi come ad esempio i canali Telegram e Live Brescia News e Live Brescia Sport per ricevere tutte le notizie sul vostro telefono cellulare non appena vengono pubblicate io vi ringrazio nuovamente per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata a presto puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e Live Play del nostro sito internet puoi ascoltarla in versione podcast su Spotify Apple Podcast Spreaker e Google Podcast Spreaker